Ciao a tutti, sono Gianluca Castoldi commercial manager per Salomon Apparelli in Gear. Benvenuti nello stand Salomon e vediamo oggi la novità per Spring Summer 14, la nuova Silhouette Sense dedicata al mondo delle corse Lab. Quindi la Silhouette Sense è costituita da una canottiera, la S-Lab Sense Tank, una canottiera che è in ActiLight Polypro, polipropilene, materiale a rapida asciugatura, leggerissima, 40 grammi, ha una costruzione molto ergonomica, particolare, che assicura il massimo della libertà, proprio per non avere nessuna interfaccia tra il corpo e gli elementi esterni, quindi veramente non sentire il capo attorno al corpo. La caratteristica principale è la rapida asciugatura, come dicevo, dei fori che sono creati a laser per assicurare la massima traspirabilità del capo e il tessuto cocona, che è naturalmente antibatterico e ha un'asciugatura superiore rispetto a quello che è un tessuto tradizionale. Passando al pantaloncino, il pantaloncino S-Lab Sense, è un pantaloncino anche questo con un taglio super ergonomico, vedete nella parte anteriore tagliato sulla coscia per evitare qualsiasi tipo di sfregamento. Due ampie tasche, sia anteriore che posteriormente, per stivare qualsiasi tipo di gel piuttosto che altri generi di prima necessità durante le gare e anche questo ha dei fori per assicurare il massimo della traspirabilità. Quindi veramente con la Silhouette Sense abbiamo una silhouette costituita da canottiera e pantaloncino dedicate a tutta quella che è la corsa in montagna per avere il minimo del peso e il massimo della libertà di movimento. Grazie a tutti.